mamma mia che scoperta questo berlingozzo amici è un ottimo dolce è un dolce come quelli che si mangiavano una volta questi sono gli ingredienti mettiamo in ciotola due uova e aggiungiamo 200 grammi di zucchero e con le fruste elettriche mescoliamo aggiungiamo un pizzico di sale un bel cucchiaio di semi di anice poi mettete un cucchiaino di lievito in 250 grammi di farina 00 poi fermate un attimo le fruste elettriche e inserite la farina setacciata nel composto a questo punto prendete un mestolo di legno e finite di mescolare il composto prendete una leccarda mettete la carta forno e un coppapasta attorno al coppapasta che avrete ricoperto con della carta forno dovrete mettere tutto il composto adesso prendi un tuorlo d'uovo e 50 grammi di zucchero mescolali e dovrai spennellare il composto che sulla carta forno dovrà essere così a questo punto metti qualche cucchiaio di zucchero a questo punto in forna a 180 gradi per 25 minuti ecco la torta davvero buonissima bene amici ci vediamo alla prossima ricetta ciao